Un'opera che rappresenta tutto il senso di libertà che è proprio della città di Pescara. Realizzata con alluminio e installata in una posizione strategica, visibile da tante angolazioni, in cima a una scala all'ingresso del municipio, la casa di tutti i cittadini. È l'esemplare dei pesci realizzato dall'artista pescarese Marco Mazzei, che unisce stili diversi e che rappresenta l'ulteriore tappa di un percorso che lo ha portato a esporre altri esemplari in tante città europee. A breve nuove opere saranno a Copenhagen, in Sud America, in Nord Europa e il sogno Roma. È stato sempre il posto che ho desiderato per una mia creazione e il fatto che sia arrivata finalmente mi fa pensare che ho fatto qualcosa di importante. L'opera è stata scoperta alla presenza dell'autore, del sindaco di Pescara Carlo Mazzei e dell'architetta Esther Zazzero, responsabile dell'ufficio per la tutela del fiume e del mare e dell'amministrazione adriatica. Questo mi permette di viaggiare in tutto il mondo e creare questa opera di land art che è rintracciabile attraverso un codice co-art che noi troviamo vicino a tutte le sculture che lascia. Un'installazione che ha anche la valenza di trasmettere un messaggio, ovvero quello che parla della tutela dell'ambiente marino. Del resto, il mare è l'anima di Pescara. Del resto, il mare è l'anima di Pescara. Il mare è l'anima di Pescara.